E' una giornata oggi importante, importante perché ricordiamo in tutta Italia le vittime innocenti delle mafie e oggi approfittiamo anche per ricordare i morti a Cutro che vanno ricordati anche loro perché è un mondo ingiusto. Con un'iniziativa rivolta principalmente alle scuole, CGL, Libera, Comune di Quarrata, CISL e UIL hanno celebrato la giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Il luogo scelto per la cerimonia è stato il terreno confiscato alla Camorra a Catena di Quarrata, oggi assegnato, seppur in via temporanea, all'amministrazione comunale grazie ad un progetto di riutilizzo sociale che vende in prima linea proprio CGL e Libera insieme ad altri soggetti. Solo voi potete salvare questa società perché voi siete il futuro, più di noi stessi che abbiamo qualche anno in più. La gestione di questo campo è stata fondamentale l'impegno in particolare di SPI e CGL perché hanno messo a disposizione davvero la loro persona, le loro competenze e abbiamo lavorato in una collaborazione strettissima. Ci sono tante cose brutte nel mondo, anche troppe, però quando c'è qualcosa di bello bisogna dirlo, anche per avere speranza. Protagonisti della giornata, gli studenti e le studentesse dei due istituti comprensivi cittadini Mario Nannini e Bonaccorso da Montemagno che hanno letto insieme a tutti gli altri enti ed istituzioni presenti i nomi delle vittime di mafia. Questa confisca e la seguente assegnazione del bene al comune è frutto di un forte impegno, di un forte impegno condiviso da Libera, sindacati, comune, prefettura, che ha portato a far sì che il comune di Quarrata potesse acquisire un bene confiscato alla Camorra per restituirlo alla cittadinanza. Un terreno che è in gestione a noi, a Libera e ai sindacati, che ha un valore questo terreno importantissimo da un punto di vista morale, perché la lotta alle mafie è una lotta prioritaria. È la dimostrazione che se ci si impegna, se si fa squadra, anche i beni confiscati alle mafie possano tornare gestiti dai cittadini e dalle istituzioni. La CGL da sempre si occupa di legalità e di lotta alle mafie e questo perché lo fa nel suo spirito confederale, lo fa all'interno di Libera, di cui fa parte, perché Libera è una rete d'associazioni e lo fa perché chiaramente l'illegalità diffusa ha certamente dei riscontri sul lavoro. Penso al caporalato, penso a tutto quello che appunto le mafie fanno sia nel sud ma anche nel nord, dove si sono costituite appunto come cartelli nell'alta finanzia. Penso alla illegalità diffusa nel settore degli appalti. Tanti sono i progetti di utilizzo del bene, alcuni a breve termine, come i campi di estate liberi ed altri più ambiziosi, come la realizzazione di orti sociali. Questo campo è stato fatto, il primo campo di estate libera realizzato a Pistoia da sempre, che è andato benissimo, abbiamo ripulito tutta l'area, ha fatto ovviamente fare ai ragazzi tutta una serie di attività didattiche, educative, perché anche stamattina appunto in questa giornata ci sono gli studenti perché è da loro che bisogna partire, perché sono appunto i nostri semi, è da loro che bisogna partire con l'educazione alla legalità. Questa estate ripeteremo il campo nell'ultima settimana di luglio, la novità è che sarà un campo residenziale, cioè arriveranno ragazzi da fuori Pistoia che pernotteranno qui per una settimana e ci aiuteranno a proseguire appunto nel nostro progetto. Abbiamo pensato, oltre a riprendere il bene, di coinvolgere le scuole, perché siamo convinti che sia importante far capire ai giovani, ai giovani studenti l'importanza di queste iniziative. Per fargli capire che la mafia esiste, esiste anche nella nostra provincia, nella nostra regione, è pericolosa e bisogna su questo sensibilizzare i giovani. E permettetemi come segretario dello SPI di dire che l'idea che abbiamo avuto, coltiviamo la legalità, nonni e giovani, anziani e giovani che coltiveranno su questa terra, su questo terreno un orto solidale, è una splendida idea di cui ne siamo molto orgogliosi. Le nostre parole d'ordine sono consapevolezza, conoscenza e partecipazione, perché attraverso questo, con il coinvolgimento di tutti i lavoratori nell'ambito del settore postale, vogliamo dare continuità al lavoro nel nostro settore, influire sulle scelte dell'azienda, perché ci saranno a breve dei grandi cambiamenti nel nostro settore, a partire dall'introduzione sempre più forte dell'informatica. Così l'SLC, il sindacato lavoratore della comunicazione e della CGL, si propone, in vista del rinnovo delle RSU in poste italiane. Un'elezione dei rappresentanti sindacali, in programma martedì 28 e mercoledì 29 marzo, che l'SLC accompagna con lo slogan, chi vuole bene al lavoro, lo difende. Le elezioni delle RSU sono un appuntamento che ha un'importanza altissima, perché il sindacato, qualunque esso sia, attraverso queste elezioni si confronta e viene giudicato dai lavoratori, delle lavoratrici e vuole rappresentare, il che vuol dire anche che non si impigrisce, perché per esempio da noi non si vota dal 2012, mezze RSU elette, mezze RLS elette addirittura non sono più presenti in azienda, perché pensionati o esodati vari. Quindi è un momento assolutamente importante, anche per rinnovare, come dire, la spinta che serve a andare anche a affrontare i momenti prossimi, non futuri, prossimi, che sono la transizione digitale, che soprattutto per poste, ma non solo per poste, è dirompente nella tenuta occupazionale e nei sistemi di lavoro da qui a pochissimi anni. Sono 546 lavoratori che in varie mansioni, dagli uffici ai servizi recapiti, sono impiegati per il servizio nell'azienda in provincia di Pistoia. Un appuntamento importante è quello del rinnovo delle RSU, per tutti coloro che lavorano in poste, al quale l'SLC arriva forte dei risultati ottenuti negli ultimi anni, in primo luogo sul fronte del personale. Negli ultimi tre anni abbiamo avuto un incremento di personale, grazie anche alle battaglie della CGL, che da sola, tra l'altro, nell'ultimo anno, nel 2022, è riuscita a portare un incremento di personale di 37 unità sulla provincia di Pistoia. A differenza dei due anni precedenti, 2020 e 2021, che l'incremento è stato di 13 unità. Quindi la fase conflittuale, quindi le trattative serrate con l'azienda, che tra l'altro la CGL ha condotto anche con una battaglia di scioperi da sola, ha portato nell'ultimo anno un incremento di due terzi in più rispetto ai due anni precedenti. Quindi diciamo che è stata una battaglia vinta, è una prima battaglia, chiaramente non ci vogliamo fermare qui e le elezioni dell'RSU ci devono dare la forza per poter continuare in questa richiesta di incremento del personale sulle politiche attive. Le politiche attive sono fondamentali per poter dare continuità ai servizi postali e anche per poter permettere poi tutta una serie di garanzie per i lavoratori che lavorano nel nostro settore. Per esempio, per quanto riguarda i lavoratori degli uffici postali, poter diminuire il numero delle trasferte e dei distacchi. Per quanto riguarda invece i lavoratori del recapito, avere una garanzia sul rispetto dell'orario di lavoro. Per quanto riguarda invece i lavoratori del settore commerciale, diminuire le forti pressioni che ci sono in quel settore, perché è il settore più remunerativo dell'azienda. Inoltre poi quello che noi vogliamo è anche poter contrattare, nelle prossime trattative che ci saranno a tutti i livelli, l'algoritmo che poi è quello alla base del calcolo delle prestazioni dei lavoratori nell'ambito appunto dei servizi postali. Inoltre, altra cosa fondamentale è poter avere la sicurezza per quanto riguarda la salute e la sicurezza nel mondo del lavoro. Un'elezione che arriva alla vigilia di un importante passaggio per poste, il progetto POLIS, quindi la gestione attraverso gli uffici postali, di tutti i servizi legati alla pubblica amministrazione. Questo progetto è la copertura del servizio pubblico che manda poste in tutti i territori, laddove può ridurre le risorse in funzione del digitale, ovvero nei comuni più piccoli dove verranno installati questi totem e si sarà presente la presenza, scusate il gioco di parole, ma sarà presente poste attraverso questi totem digitali dove si potrà interfacciarsi con la pubblica amministrazione che diventa digitale, dopodiché è fondamentale per il sindacato accompagnare questo programma di lavoro perché senza delle persone che possano anche dare indicazioni alle persone sarà un investimento che non porterà ai risultati di cui tutti ci aspettiamo. Chiederemo un voto per dare forza a queste rivendicazioni che ci devono permettere poi anche di poter influire sul prossimo rinnovo contrattuale visto che il contratto scade a fine 2023, ci sarà la fase del rinnovo contrattuale. Noi vogliamo la certezza del mantenimento dei diritti perché il contratto dei postali è un contratto che ha molti dritti, noi vogliamo che vengano mantenuti, ma dall'altro canto anche un incremento del salario perché il salario si deve riallineare su quella che è l'inflazione che in questo momento sta aumentando nel nostro Paese. Inoltre un'altra tematica importante che noi porteremo nelle trattative è quella della riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario. Questa è una rivendicazione fondamentale. Noi vogliamo avere voce importante su tutte quelle che saranno le prossime scelte dell'azienda attraverso appunto la partecipazione dei lavoratori e per questo che noi chiediamo sempre più forza per la CGL. Quindi invitiamo tutti i lavoratori a votare per la SLC-CGL per le elezioni al 28 e il 29 marzo. Purtroppo nel nostro Paese negli ultimi periodi le povertà sono triplicate. E' la fotografia scattata da Feder Consumatori Pistoia. L'occasione è stato il congresso provinciale dell'associazione costituita nel 1988 con il sostegno della CGL. Congresso che ha visto il rinnovo del Consiglio e la conferma come presidente di Giorgio Tibo. L'evento è stata occasione per fare il punto sull'attività nel Pistoiese di Feder Consumatori che opera oltre che nella sede di via Puccini nel capoluogo anche a Montecatini, Pesce, San Marcello, Agliana e Quarrata. Nel 2021 e nel 22, anni più critici per la pandemia di Covid, sono state circa 2.000 le persone che si sono rivolte all'associazione per chiedere aiuto. Nel 2021 sono state poi 197 le pratiche aperte e salite a 227 nei 12 mesi successivi. In testa alle problematiche dei cittadini, quelle legate alla telefonia e ai costi energetici che nel secondo anno sono notevolmente aumentati come numero di segnalazioni. Le conseguenze per le persone e le famiglie sono state pesanti, anche per i rincari che hanno toccato non soltanto il capitolo bollette, ma in generale tutti quanti i costi. Una parte di famiglie si sono ritrovate in una condizione di semipovertà o addirittura di povertà e purtroppo anche con l'aiuto nostro non riescono a risalire la china perché le condizioni di vita sono molto peggiorate per queste persone che vivono essenzialmente o della pensione o della busta paga e questa busta paga tante volte non c'è più. L'attività nel 2022 di FederConsumatori ha portato, ha sottolineato il presidente Tibo, a recupero tra rimborsi e riconoscimento di spese non dovute di circa 60.000 euro. Tra le problematiche segnalate poi, quelle legate alle irratalizzazioni degli acquisti che anche a causa della crisi, quando non pagati regolarmente dalle persone, hanno avuto un impatto pesante sulla vita della gente. Sicuramente sono peggiorate le condizioni delle famiglie per cui ci troviamo di fronte a situazioni in cui famiglie che avevano richiesto e ottenuto dei finanziamenti perché le condizioni familiari lo permettevano, gente lavorava, due persone in una famiglia, eccetera, si sono ritrovate sia con la pandemia sia con la crisi economica accentuata da questa pandemia in condizioni di disoccupazione oppure in condizioni di precarietà nel lavoro e quindi sono state costrette anche a interrompere i pagamenti di questi finanziamenti e conseguentemente a questo hanno subito tutti gli aspetti negativi che questo ha prodotto come per esempio l'essere inseriti nella lista dei cattivi pagatori e quindi non poter ottenere più altri finanziamenti, eccetera. E quindi diciamo che anche la nostra organizzazione si è dovuta cimentare su questi aspetti e siamo riusciti anche in diverse occasioni a ottenere dei risultati, ridurre cioè queste esposizioni da parte di queste persone. La Federconsumatori è stato così lanciato un appello a governare questi fenomeni venendo incontro ai bisogni delle persone e delle famiglie. Io credo che bisognerà che ci sia un intervento serio nei confronti di queste persone e soprattutto ci sia un intervento serio anche rispetto al mondo del lavoro. Cioè qui non si può continuare a lasciare tutto in mano al mercato. Bisogna che lo Stato, i governi intervengano tenendo conto di questa situazione che va sempre peggiorando e quindi adottando soluzioni che possono in qualche modo rimettere queste persone in una condizione di speranza anche. E quindi facendo in modo che possano vedere l'uscita del tunnel in cui si trovano. Ecco, io credo che questa sia una cosa importante. Come è importante, un'ultima cosa la voglio dire, una situazione che è sempre più diffusa che è quella che riguarda in modo particolare gli anziani di una solitudine che investe queste persone. Perché in questa società ad oggi non ci sono più interlocutori, non c'è verso più parlare con nessuno. Se uno ha un problema non riesce a contattare più nessuno, se si mette al telefono con questi numeri verdi eccetera e ci si sta a ore senza avere risposte. E questo produce solitudine. La nostra organizzazione, la Federconsumatori, è impegnata anche a dare risposte rispetto a questo tipo di problematica, aiutando le persone che a noi si rivolgono anche per risolvere problemi quotidiani che si trovano a dover affrontare e che non sanno come far risolvere. Il lavoro Crea il Futuro è stato il tema del XIX Congresso Nazionale della CGL che c'è stato a Rimini nei giorni scorsi. Che valutazioni fate di questo importante appuntamento per il sindacato? Intanto devo dire che è stato un bel congresso, si è respirato davvero un clima positivo con la partecipazione di oltre mille delegati e poi è stato un crocevia questo congresso anche dal punto di vista non solo sindacale ma anche politico. Quello che noi abbiamo chiesto dal punto di vista del lavoro e degli altri temi sociali è di provare a colmare quel voto di rappresentanza politica che c'è stato in questi anni. Per questo motivo durante il congresso nel quale oltre agli interventi dei delegati sindacali, la relazione e le conclusioni Landini, ci sono stati anche degli intermezzi di carattere politico molto importanti. penso alla ricomposizione perlomeno sul palco dell'opposizione a questo governo da Fratoianni a Calenda ai quali abbiamo chiesto come fare per rilanciare il tema del lavoro, il tema della precarietà, il tema della riduzione degli orari di lavoro, il tema dei salari in questo Paese e poi i temi più generali della sanità e dell'istruzione. In più abbiamo avuto anche l'intervento del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che devo dire non ci ha assolutamente convinto su niente, ma siccome, come ha detto il nostro segretario, per essere ascoltati bisogna sapere ascoltare, c'è stato un silenzio assordante dal punto di vista dell'ascolto, ma è comunque un Presidente del Consiglio che è venuto e ci ha dato il suo punto di vista. Nelle conclusioni naturalmente Maurizio Landini ha rispedito al mittente tutte le cose che sono state dette e che non ci hanno assolutamente convinto. Dopodiché ci sono stati interventi anche di altri ospiti, se penso al Vice Premier spagnolo, anche Ministro del Lavoro, Yolanda Diaz, poi naturalmente i modelli sono diversi, quello italiano e quello spagnolo, ma sul tema della precarietà ci ha dato un punto di vista di come combattere questo fenomeno che in Italia è molto presente. Poi ci sono stati anche interventi di carattere sociali, temi della guerra, temi della migrazione, è intervenuto Monsignor Zuppi. C'è stato anche un momento assolutamente importante per Pistoia, è intervenuta una nostra infermiera, Rachele, che ha raccontato con l'emozione necessaria, con il pato snecessario, il lavoro degli infermieri, soprattutto durante il periodo della pandemia, e il valore della sanità, il ruolo pubblico dei lavoratori. E quindi è davvero un dibattito molto ricco, ha avuto il merito di rimettere al centro della discussione i temi a noi cari, che sono i temi del lavoro, abbiamo discusso anche con Cisleville e poi abbiamo rilanciato le nostre proposte, ripartendo da luoghi di lavoro, non escludendo forme di mobilitazione, a partire appunto, se non ci saranno risposte sui temi a noi più cari, anche a iniziative di mobilitazione che possano riguardare anche lo sciopero. Walter è stato un compagno importante per tutta la CGL, per tutte le compagnie e compagni, è stato un privilegio averlo conosciuto, ha saputo coniugare competenza sindacale, umanità, ma soprattutto ha sempre messo in tutte le cose che facevano quella genuinità e generosità che sono parte imprescindibile di quello che fa un sindacalista, non si può fare il sindacalista senza essere coinvolti dalle vicende umane anche delle persone, sapeva ascoltare, sapeva parlare, sapeva dire la cosa al momento giusto e sapeva lottare nelle vertenze sindacali, lascia un vuoto incolmabile dentro la CGL. Walter lascia un patrimonio importante e noi dovremmo essere in grado e lo faremo di poter onorare quello che Walter ha fatto in questi anni. Lui si è impegnato anche molto dopo nel sociale, però da pensionato nell'ultimo congresso è stato, lo abbiamo rivoluto nell'Assemblea Generale della CGL di Pistola perché il suo contributo è sempre importante sia politicamente ma anche su temi concreti, se penso a temi specifici, le ho chiesto anche un rinnovato impegno nel settore dell'artigianato. Ci mancherà davvero Walter, però davvero io nel fare le condoglianze alla moglie, ai figli, alle nipotine, alle quali era molto legata, voglio dire davvero Walter noi ti vogliamo bene, Walter non ti dimenticheremo mai e sarai sempre nei nostri pensieri, tutte le nostre iniziative saranno volte a provare, provando a farle come le avreste fatte tu. Quindi grazie di tutto, un caloroso abbraccio da parte di tutta la CGL e va alla famiglia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.